buongiorno a tutti dal Flaminio Real benvenuti alla dodicesima giornata del campionato di eccellenza My Soccer Player 2023-2024 girone A partita che vedrà coinvolte la Luis e la Rieti Biraschi col petto per d'angolo può avanzare la Luis con d'angolo allarga ancora per Biraschi punta l'area di rigore Biraschi doppia finta calcia Biraschi palla la larga e alta parte il 10 se ne va contro Nicosia Giovannini crossa per Rossi gentile arrivato al primo tiro in porta al 29esimo corto Mattei scambia ancora con Giovannini che adesso può puntare entra sul sinistro crossa verso l'area il colpo di testa di Rossi è fuori Biraschi cercato Biraschi prova ad entrare in area Biraschi se ne va Biraschi Biraschi e Gidio Achilles allora pronto contro Rossi Giovannini butta entra in area Giovannini fa tutto lui calcia deviazione arriva Filosa butta giù la porta il capitano della Rieti al 75esimo Amatrice Rieti in vantaggio parte De Vincenzi destro traversa piena clamoroso e poi Franchi alto in questo caso parliamo del numero 13 ovvero tiraferri tanto il cross il gol il gol del raddoppio con Scipioni tanto il cross il colpe di essere un bolino c'è il gol della Luis c'è il gol della Luis è regolare si riapre la partita attenzione attenzione perché ha segnato San Rocco e si riapre la partita forse è l'ultima palla per la Luis Biraschi va verso l'area di rigore e finisce qui vince la Amatrice Rieti 2 a 1 succede tutto nella ripresa al Flaminio Real A presto! A presto!